Sorridenti e felici formano una super coppia, Rosalinda Celentano, 46 anni, e Simona Borioni, 43, sono arrivate insieme al party di compleanno dell'amico Beppe Convertini, organizzato al peso restaurant e bistro a Roma. Abito di seta color ruggine per Simona, più casual, alla figlia di Adriano Celentano e Claudia Mori. Le due hanno salutato con tanto affetto il festeggiato, chiacchierato con gli ospiti, assaggiato le tante prelibatezze e applaudito al momento della torta. Il nostro legame va oltre l'identità sessuale, per me lei una creatura unica, quasi angelica, che ho sempre amato anche se non l'ho più vista per vent'anni e che amerò per sempre, non sarà mai...